Il gas metano arriverà nelle case della frazione di Caminate entro la fine di gennaio. Una buona notizia per i residenti della frazione fanese che così potranno inoltrare la domanda di allaccio come hanno fatto prima di loro gli abitanti di altre frazioni, Fenile, Sant'Andrea in Villis e Roncosambaccio per citarne alcune. Un'opera di ingegneria civile di notevole portata perché ha comportato la posa in opera di una conduttura che attraversasse il fiume Metauro ed il collegamento così della parte sud della città. In questo momento hanno appena finito, stanno finendo le ultime saldature sul tubo del gas che appunto collega la fano con Caminate che hanno eseguito con un metodo di open cut e quindi hanno scavato il fiume Metauro, hanno posato a 3-4 metri di profondità tubo d'acciaio con un controtubo appesantito appunto per proteggere il tubo del gas e i lavori stanno finendo e dovrebbero finire diciamo nel mese di gennaio 2018 e quindi a breve ci sarà il gas anche a Caminate. La copertura dello scavo è stata ultimata alcuni giorni fa come dimostrano le immagini girate questa mattina durante il sopraluogo dei tecnici del comune e di Aset sul cantiere confinante con un altro importante cantiere, quello delle opere compensative della 14 da parte della Pavimental che sta realizzando un ponte sul fiume Metauro proprio nello stesso punto e che una volta ultimato permetterà al traffico di bypassare tutto il centro abitato fanese per chi arriva da sud e collegarsi così con l'interquartieri.